Upas, spoiler del 1 gennaio 2024, Speranza scopre un'amara verità su Samuel, torna Cerruti. Lunedì 1 gennaio inizia il nuovo anno Un posto al sole. Come l'episodio di Natale, anche il dramma di Capodanno rispetta il programma attuale. Quindi, se da un lato ci sarà spazio per feste, brindisi e celebrazioni, dall'altro l'attenzione sarà probabilmente rivolta alla famiglia Altieri. La ragazza, infatti, deve fare i conti con una terribile notizia riguardante Samuel, di cui ancora non si conosce. E nello specifico al personaggio di Speranza. Intanto si assiste anche al rientro del poliziotto Sase Cerruti, assente già prima delle vacanze estive. Capodanno a Palazzo Paiadini un posto al sole non andrà in onda il 30 dicembre per trasmettere il messaggio del Presidente della Repubblica. Inoltre quest'anno il Capodanno cade di domenica. In ogni caso, gli eventi vissuti dagli abitanti di Palazzo Palladini alla fine del nuovo anno e all'inizio del nuovo anno verranno raccontati integralmente lunedì 1 gennaio 2024. Quindi questo episodio in particolare mostra la celebrazione dei vari personaggi principali, ma chiaramente dà molto spazio alla famiglia Altieri, in particolare a Speranza. Il ritorno a Salvatore Cerruti Nel frattempo è previsto il ritorno di Salvatore Cerruti, Cosimo Alberti. L'immagine promozionale pubblicata di recente mostra un agente di polizia con Castrese, Peppe Romano. Non dimentichiamo che è passato esattamente un anno dal bacio di Sassà con il primo genito della famiglia Altieri, a Capodanno. Forse è giunto il momento che voi due decidiate di vivere apertamente la vostra relazione. In particolare interesse per la risposta di Espedito, che in precedenza è stata descritta come profondamente regressiva e omofobica. Ma queste non sono le uniche novità che attendono il patriarca della famiglia Altieri. Infatti, anche la sua unica figlia ha intenzione di condividere alcune novità. Dolore della speranza Il trailer mostra che Speranza, Maria Sole Di Maio, apprenderà la mara verità su Samuel, Samuel e Cavallo. Non si hanno informazioni dettagliate su questa storia, ma forse la ragazza finirà per scoprire che il suo fidanzato non solo non la ama più. Ma l'ha tradita più volte con Micaela Cirillo, Gina Amarante. Guido, Germano Belavia, lo aiuta ad affrontare una situazione molto complicata. L'agente di polizia del Bue si ritrova coinvolto ancora una volta nella faida della famiglia Altieri contro la sua volontà.